Qualche giorno, lunedì, abbiamo avuto il piacere di ascoltare il contributo sicuramente importantissimo della battaglia di Standing Rock del palco di Sherwood, che ci parlavano di come sono i water protectors, i protettori dell'acqua, che è il bene più prezioso che abbiamo noi sulla terra, che è quello che ci permette sostanzialmente di vivere. In qualche modo siamo noi qui in prima linea a essere i protettori, i gueriglieri per l'acqua pulita, a proteggere il bene più prezioso che ci stanno mettendo a repentaglio. Perché alcune cose bisogna dirle in maniera chiara, sono anni che in Campania si parla della terra dei fuochi per colpa dell'avvelenamento e di migliaia di morti e di malattie che vengono provocate. Qui possiamo parlare della pianura dei veleni, cioè della pianura della morte, perché siamo in un territorio, quello della regione Veneto del nord-est, che in qualche modo esemplifica i disastri che un modello di sviluppo di questo tipo, del capitalismo estrativo di cui parlava Danilo all'inizio, ha causato negli ultimi decenni. Cioè abbiamo non solo l'acqua avvelenata, non solo da Fass, ma basta girarsi intorno un po' nella zona del Brenta, il Cromo, il Mercurio, c'è una discarica a poche decine di chilometri di Vicenza sull'alto piano di Asiago che è costruita, che è stata fatta sopra il bacino di Oliero, dove ci sono l'acqua pulitissima che potrebbe fornire di acqua potabile centinaia di migliaia di persone. Ma abbiamo l'aria tra le più inquinate del mondo, abbiamo un territorio che è stato completamente cementificato, devastato, migliaia di ettari di terreno che sono stati tolti all'agricoltura per cosa? Perché c'è un modello, credo che anche lo scandalo Mose in qualche modo rappresentano l'esempio, di intreccio tra politica e affari, di qualsiasi colore essa sia, certo da 30 anni che in questa regione siamo governate il centro-destra, prima Galan, poi la Lega, siamo tutti Zaya, poi era il vice di Galan all'epoca, ma di qualsiasi colore siano le amministrazioni regionali, comunali, eccetera, c'è un intreccio tra malaffare, tra politica che ci sta portando a una devastazione, ci sta portando a una distruzione del nostro territorio, della nostra acqua, della nostra area e quindi della nostra vita. Cioè il fatto che questo modello produttivo domina sulla stessa riproduzione della nostra vita, della possibilità di continuare a vivere in maniera sana in questo territorio. Cioè è inaccettabile che nel 2017 in Italia, in Europa, io quando, io non posso bere acqua da rubinetto, che poi io abito anche nello stesso paese, Montecchio, dove abita Alberto, non siamo nella zona rossa, però siamo nella zona arancione, cioè siamo lì, lì, dove io da anni non bevo acqua da rubinetto perché ho paura di avvelenarmi bevendola. Allora, credo che sia fondamentale, e qui raccolgo anche quello che diceva all'inizio Danilo, innanzitutto sono due le questioni immediate su cui noi dobbiamo lavorare, in maniera unita, in maniera coordinata. La prima è quella, chiaramente, la chiusura della Miteni, perché loro dicono adesso non producono più una FAS a catena lunga, ma nei FAS a catena eccetera eccetera, però i FAS, e l'ha dimostrato anche l'Egambiente qualche tempo fa in un convegno, possono benissimo essere sostituiti da altri elementi che non sono velenosi, così come sono velenosi queste sostanze. E quindi quella fabbrica, che è la fabbrica di morte, deve chiudere. E di fronte all'immobilità, di fronte a questa immobilità, che appunto vediamo da parte della regione Veneto, credo che debbano essere i cittadini, gli attivisti cittadini in primo corpo, a mettere in gioco anche i propri corpi, anche incatenandosi davanti alla Miteni per farla chiudere. Per dire noi questa fabbrica non la vogliamo, non è che la spostiamo da qualche altra parte, così creiamo il problema da un'altra parte e noi ce ne laviamo le mani. No, deve chiudere chiaramente bonificando e mettendo i soldi per i danni che ha combinato. Prima negli anni 70 c'era Rimar, c'era Marzotto, adesso c'è questa multinazionale americana, però questi devono pagare, o che paghiamo noi, come succede adesso, che nelle nostre bollette paghiamo noi i filtri per la depurazione, eccetera. E la seconda cosa, che diceva Danilo all'inizio sempre, noi dobbiamo, credo, garantire, almeno nelle zone rosse, almeno ai soggetti più vulnerabili che sono i bambini che vanno a scuola, ma l'acqua pulita, cioè l'acqua libera da FAS, non è possibile che... perché tante mamme si stanno domandando, come faccio io a mandare il mio figlio a scuola, mia figlia a scuola a settembre e fargli bere l'acqua dal rubinetto, quando so che quell'acqua lì è veleno. Allora in qualche modo, visto che dall'alto ci dicono, ma bevete pure, ma vediamo, perché nel caso della Dupont negli Stati Uniti, che tra l'altro coinvolgeva molte meno persone che da noi, c'erano i militari che venivano nei casi, chiaramente di emergenza, perché non è che puoi fornire acqua continuamente a centinaia di miliardi persone, però venivano con le autobotti e davano l'acqua ai cittadini, perché chiaramente, cioè quando uno vede quelle immagini che noi abbiamo visto, dice, ma è possibile, là davano autobotti e qua noi ci dicono che possiamo bere, è qualcosa di allucinante, e quindi forse bisogna anche organizzarsi dal basso, attraverso la partecipazione, attraverso la mobilitazione popolare per garantire l'acqua almeno ai soggetti più esposti, ma anche dire, e questo chiaramente va fatto in forma di massa, non vogliamo pagare le bollette dell'acqua, perché dobbiamo pagare il veleno, come dire, tu mi dai il veleno e io ti pago, grazie per avermi dato il veleno, ma stiamo scherzando, cioè anche qui bisogna ragionare in questo senso qua. Allora, cioè credo che questi sono alcuni aspetti, chiaramente che nell'immediato bisogna, su quali bisognerebbe agire. E poi chiaramente il problema grande, come dicevo prima, è questo modello di sviluppo, è questo modello di produzione, chiaramente, che va rovesciato, cioè non è che, non è un caso se abbiamo la temperatura così alta in questi giorni, se ho il decreto della regione che appunto limita l'utilizzo dell'acqua, perché non ce n'è, già quella poca acqua che c'è è avvelenata, e pensiamo adesso che situazioni ci troviamo. Guardavo anche due giorni fa la mappa satellitare di come rispetto all'anno scorso c'è la vegetazione, i boschi del Veneto, sono molto più secchi rispetto a quello che erano l'anno scorso. Cioè, è chiaro che stiamo andando verso una catastrofe, che non sarà la catastrofe come nei film americani, che arriva in un giorno e distrugge il pianeta, ma sarà una catastrofe, e già in atto, che dura nel tempo, e che però ci porterà se non cambiamo, e come diceva su questo Naomi Klein nel suo ultimo libro, solo la rivoluzione ci salverà. Cioè, soltanto un modello di società, un modello di produzione, di sviluppo diverso, rispetto a quello che noi viviamo in questo momento, che nel Veneto, ripeto, abbiamo vissuto in maniera molto palese, molto forte. Ecco, e quindi, credo che su questo dobbiamo agire. Dobbiamo, e ripeto, la partecipazione, io ho visto, ho partecipato a tante assemblee, l'ultima, quella a Colonia Veneta, settimana scorsa, e vedo che c'è tanta gente che partecipa, che chiaramente quando ti tocca, tocchi la vita, quando ti tocca la vita di tuo figlio, si tratta di qualcosa che non è che puoi dire, ah vabbè, chiudo, non ci penso. Perché di fronte a un disastro del genere, la partecipazione e la mobilitazione popolare, credo che sia assolutamente fondamentale. Su questo dobbiamo lavorare, a partire, cioè, lavorare, continuare a lavorare, ecco, sicuramente. Grazie.